Noi abbiamo fatto un'operazione molto semplice che si può compendiare in due momenti. Il primo è stato avere fatto un'operazione controcorrente, cioè quella di indurre i ragazzi a scrivere. Sono scritte tutte le citazioni preferite dei ragazzi, a qualsiasi libro che si sentono rappresentati. Il risultato è stato straordinario perché il concorso che abbiamo lanciato, che ha come tema la riscoperta del territorio, ha trovato una risposta incredibile invece da parte dei ragazzi. Abbiamo agganciato, adesso c'è il punto che si è creato, un giro in Littorina. La Littorina cosa rappresenta? Rappresenta il viaggio. Il viaggio è un'avventura, un'avventura dell'anima, un'avventura di emozioni. Quindi fare salire questi ragazzi che già avevano parlato del loro territorio e farglielo vivere attraverso un viaggio attorno al vulcano. E a ogni tappa questi ragazzi hanno incontrato altri ragazzi dei comuni che hanno partecipato. È stato uno scambio straordinario di energie che ha messo in moto qualcosa di incredibile. Fare l'editore significa avere passione nelle cose in cui uno fa e crede. E noi non è che crediamo nel libro che è un oggetto, noi crediamo nei contenuti che il libro riesce ad esprimere. Ma soprattutto crediamo nella creatività che c'è dietro a un libro, che è l'energia più importante di cui dispone un paese. E i giovani di questa energia sono i primi portatori. E i giovani di questa energia sono i primi portatori.